Le ville storiche della Lucchesia svelano i loro segreti. 12 palazzi e giardini privati del territorio hanno aperto le porte al pubblico in occasione della 14esima giornata nazionale delle dimore storiche. La scuola di diecimo ha nuova vita dopo il restauro da un milione e mezzo di euro dopo un anno e mezzo dall'inizio dei lavori di messa in sicurezza è stata inaugurata la scuola dell'infanzia e primaria a Borgo a Mozzano. Screening a tappeto per l'epatite C croce rossa e misericordia in piazza per l'iniziativa della regione rivolta alle persone dai 35 ai 55 anni. L'hoquei tristino di rigore forte beffato 3 a 3 dopo i tempi regolamentari, poi i veneti la spuntano ai rigori e si portano avanti 1 a 0 nella finale scudetto. Martedì e sabato due gare in casa che i rosso-blu dovranno assolutamente vincere. La Nottolini volta pagina e rinuncia alla B2, decisione sofferta dei dirigenti capannoresi che dopo 11 anni non iscriveranno la squadra al campionato nazionale. Si punta tutto sul settore giovanile. Buonasera e bentrovati con l'informazione del nostro telegiornale, dunque l'avete sentito anche dai nostri titoli. È stata una domenica all'insegna dell'arte con le dimore storiche della Lucchesia che hanno aperto gratuitamente le loro porte. Partiamo da qui. La ricchezza del parco, della natura, del silenzio sono impareggiabili. L'eleganza della villa, del giardino, c'è poco da dire. Un'occasione rara e gratuita per scoprire gli scrigni dell'arte della Lucchesia. Qui siamo a Villa Torrigiani, a Camigliano, ma erano 12 le villa e i giardini privati del territorio ad aver aperto le porte al pubblico in occasione della 14esima giornata nazionale delle dimore storiche. L'obiettivo è stato quello di permettere ai visitatori di toccare con mano i progetti dei grandi architetti del passato per sensibilizzare la società sul ruolo di beni culturali che definiscono la qualità e la bellezza del paesaggio in cui si inseriscono. E la risposta c'è stata. La media dell'intera giornata è stata di più di una cinquantina di visitatori all'ora. L'afflusso ha iniziato ad intensificarsi nelle prime ore del pomeriggio. L'iniziativa ha incentivato un turismo di qualità, contribuendo ad attirare cittadini ma anche diversi turisti curiosi e consapevoli. Per un ricordo, perché qui mi sono fatto le foto per il matrimonio che si è svolto 34 anni fa. Mi piaceva rivedere il posto, ho approfittato della giornata, che è una bella giornata, e visitare questa villa. Oggi, la giornata in Lassi, consente anche l'ingresso libero, e quindi per le bimbe penso sia una cosa meravigliosa. All'esterno della villa, sul muro della cappella, sono due epigrafi. Una ricorda la gente del paese morta nella Prima Guerra Mondiale. L'altra ricorda la Marchesa Torrigiani, che era infermiera volontaria nell'ospedale militare di Firenze dopo Caporetto, e morì lì contagiata perché lavorava nel reparto infettivi, dei militari feriti infettivi. Ecco, sono anche questi aspetti che fanno parte della nostra storia. Con l'occasione abbiamo intervistato la principessa Vittoria Colonna di Stigliano, padrona di casa Villa Torrigiani, ma anche presidente dell'Associazione delle Ville e dei Palazzi Storici della Lucchesia. Oggi si rinnova questo appuntamento importantissimo con quello che è non solo il museo più diffuso in Italia, come si ama dire, come associazione di more storiche italiane, ma è proprio la testimonianza della nostra storia, della nostra arte e del nostro ambiente, della nostra natura, che se così si conserva è anche grazie proprio a queste ville lucchesi, che oggi si aprono insieme alle loro fattorie, per incuriosire sempre di più e incentivare maggiormente chi vive questi luoghi o chi questi luoghi viene a visitarli in vacanza, perché siano davvero un qualche cosa da amare, che siano il nostro patrimonio nazionale da salvare, da far vivere, da portare nel futuro. E le testimonianze di questi turisti veramente ci rincuorano, perché sono interessati alla natura, sono interessati alla storia e ai personaggi che l'hanno vissuta. Voltiamo pagina, ci spostiamo a Borgo Ammozzano e per la precisione nella frazione di Diecimo, dove è stata inaugurata, dopo un lungo lavoro e costoso di restauro, la scuola dell'infanzia e primaria. Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione del complesso scolastico di Diecimo, che hanno messo in sicurezza l'edificio che ospita bambini e ragazzi della scuola dell'infanzia e della primaria della frazione. Una struttura moderna e sicura, dunque, inaugurata al termine dei lavori durati circa 18 mesi. Gli interventi avviati nel novembre 2022 hanno portato alla realizzazione di un plesso scolastico conforme alle normative antisismiche. Il costo complessivo dell'opera monta a 1,5 milioni di euro, di cui 950 mila finanziati dalla regione toscana, attraverso il bando prevenzione sismica. L'aumento dei costi, inizialmente previsti a 1,1 milioni di euro, è stato dovuto alla necessità di adeguare l'edificio a una classe di rischio più elevata, considerato anche il suo ruolo come centro di ricovero in caso di calamità naturali, in conformità con il piano intercomunale di protezione civile. Spazio adesso alla sanità, perché è stata una domenica anche all'insegna della prevenzione, Croce Rossa e Misericordia in piazza a Lucca e a Capannori per effettuare screening gratuiti sull'epatite C. Un semplice prelievo del sangue per scoprire nell'immediato il virus dell'epatite C e quindi intervenire in tempo. L'appello dell'ASDA ha raggiunto la popolazione lucchese perché in tanti si sono presentati nei punti allestiti per la campagna di screening gratuito, in piazza della cittadella Lucca grazie ai volontari della Croce Rossa e in piazza della chiesa a Capannori con la Misericordia. L'infezione, spiegano gli esperti, può decorrere senza sintomi per anni o decenni e quindi questo test permette di accedere alle cure prima che il virus causi danni al fegato con il rischio di cirrosi o carcinoma epatico, ma anche che si sviluppino malattie reumatologiche, ematologiche, cardiovascolari o diabete. L'evento, promosso dalla Regione Toscana e organizzato con la collaborazione dell'Associazione di Volontariato Toscane e che ha coinvolto tutto il territorio regionale, è parte della campagna di screening gratuito ripresa nelle scorse settimane dopo i 41.000 esami effettuati nel 2023. Diciamo che è una giornata regionale, quindi ci sono varie piazze in cui si può effettuare questo screening per l'HCV, quindi l'epatite C. È una giornata importante perché comunque si possono rilevare delle positività in persone che non manifestano nessuna sintomatologia e quindi si può pervenire l'insorgenza di sintomi e di segni che possono in realtà poi compromettere nella cronicità la vita della persona. Diciamo che c'è un target di età per cui venite in piazza, noi siamo qui da 35 a 55 anni, questo è il target per il test. Mentre al Real Collegio, sempre a Lucca, riflettori accesi sull'intolleranza al lattosio. Come tutelare le persone intolleranti al lattosio? Che cosa è meglio mangiare? Quali sono i cibi da evitare? È stato questo il focus al centro dell'iniziativa che si è svolta al Real Collegio dal titolo Vivere senza lattosio, dal test alla tavola, organizzata dall'Associazione Italiana Latto Intolleranti APS. Per un pomeriggio è stato possibile, con una piccola donazione, effettuare il test genetico per la predisposizione all'intolleranza al lattosio in collaborazione con il laboratorio di analisi Aerofins LAM. Sul tema si è tenuta anche una tavola rotonda di specialisti. L'obiettivo è stato quello di fare chiarezza su un argomento spesso accompagnato da troppa disinformazione. L'Associazione Italiana Latto Intolleranti APS è la prima e unica in Italia a tutelare le persone intolleranti. Nata nel 2013 dall'esperienza personale della Presidente Maria Sole Facioni e dall'esigenza di colmare un vuoto normativo sulla tematica, oggi conta oltre 11.000 soci e oltre 200 attività aderenti al suo progetto Senza Lattosio Fuori Casa, una rete di strutture ricettive dove poter consumare pasti in tutta sicurezza. In Italia le persone con questa esigenza sono circa il 50%. Per cui è strettamente necessario fare informazione e soprattutto aumentare le persone diagnosticate. Ecco perché oggi nella giornata del 25 maggio appunto è quella di fare sensibilizzazione ma anche aumentare le persone che possono sapere se sono predisposte o meno all'intoleranza grazie alla possibilità di fare il test genetico. Ed è per noi un motivo di orgoglio organizzare questa giornata nella nostra città di origine perché ricordiamo che l'Associazione è nazionale. Un ciclista di 65 anni è stato soccorso da una squadra dei Vigili del Fuoco e dal personale del 118 a Vorno nel comune di Capannori. Dopo essere caduto dalla mountain bike l'uomo insieme ad un gruppo di amici stava percorrendo un tratto particolarmente impervio di un sentiero nel bosco quando ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto. I pompieri hanno provveduto ad immobilizzarlo e a trasportarlo fino all'area dove ad attenderlo si trovava l'ambulanza. E adesso spazio alla politica verso le elezioni a Capannori. La lista Capannori Popolare dice no alla multi-utility alla privatizzazione dei beni comuni e dei servizi. Nella sala del Consiglio Comunale si è tenuto l'incontro sul tema e noi abbiamo intervistato la candidata a sindaco Nicoletta Gini. Siamo nella sala del Consiglio Comunale per parlare oggi di multi-utility perché di fatto l'entrata in multi-utility rappresenta la fine definitiva della possibilità di ripubblicizzare l'acqua e il servizio idrico integrato. All'interno del PD Toscano assistiamo a un continuo rimpallo e discussione sulla finanziarizzazione della multi-utility ma oggi noi siamo qui per dire un no chiaro e netto a questa possibilità e per la ripubblicizzazione dell'acqua pubblica e del servizio idrico come vuole per l'appunto il referendum per l'acqua pubblica del 2011. E' stata una giornata, l'abbiamo visto in apertura all'insegna dell'arte ma con queste temperature quasi estive ormai il weekend significa anche spiaggia e mare e noi andiamo proprio lì sulla costa dove gli attivisti di Mare Libero hanno occupato la spiaggia del Tuiga. Ce ne parla Cinzia Chiappini. Io ho pagato per essere qui e lei... Per favore, io cerco di parlare con il direttore Non si paga per stare qui, se l'hai pagato... Non si paga per stare qui, non si paga per stare qui. Non si paga, la concessione è scaduta a dicembre. Siamo a maggio, lei ha pagato, se la prenda per favore, cosa si faccia ridare? Mi hanno truffato a me. Momenti di polemica non certo di tensione al Tuiga di Marina di Pietrasanta tra gli attivisti di Mare Libero e i clienti dello stabilimento dei VIP. Sì, perché l'arrivo di un manipolo di manifestanti armati, si fa per dire, di tele e ombrelloni ha portato scompiglio tra le esclusivissime tende della struttura. Un'iniziativa mirata ad accendere i riflettori sull'annosa questione delle concessioni balneari. Per far capire che le spiagge attualmente sono da considerarsi libere perché le concessioni sono scadute il 31 dicembre del 2023. Noi non è che cerchiamo, diciamo, uno scontro con il balneare assolutamente. Noi denunciamo questa, diciamo, latenza da parte degli amministrazioni comunali nel non risolvere questo problema che si trascina da 16 anni. Un problema che potrebbe essere risolto mettendo all'asta le concessioni e seguendo alcuni esempi virtuosi che già esistono anche nel comune di Viareggio. Ogni quattro anni fa le aste per le spiagge che mette in concessioni in Darsina dove ora attualmente c'è l'altro mare oppure a Torre del Lago dove ci sono altre spiagge. E tra parentesi, da quelle due concessioni lì il comune di Viareggio rimangono in tasca 130.000 euro di utili. Quindi, voglio dire, Viareggio ha 125 concessioni in pancia. Se da ognuna ricavasse 50, 60, 70 mila euro diventerebbe ricco se fosse gestita in questa maniera qui. Si chiude così l'edizione del nostro telegiornale dedicata a Lucca, alla Valle del Serchio. Grazie per averci seguito fin qui. Adesso linea, come sempre, allo sport in studio. Guido Casotti. Arrivederci. Un buon proseguimento. Grazie a tutti.